Se voi traducete questo dicendo Fornello auspica licenziamento dei pubblici impieghi, io non risponderò mai più alla vostra domanda. Noi non l'abbiamo fatto, però adesso su questa cosa... Io ho detto questo che ho detto, auspico che ci sia parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico e io credo che questo auspicio alla parità di trattamento debba essere preso in considerazione come piccola. Tenendo conto della specificità del pubblico impiego, io auspico parità di trattamento.